Ciao, sono Marco e Nicola del negozio Passport. Oggi siamo in compagnia delle novità della collezione Primavera-Estate 2020 di La Sportiva. Possiamo parlare di un'infinità di questo marchio, perché ovviamente stiamo parlando di uno dei top brand nel mondo trail running per i nostri negozi. Nel mondo del trail running ovviamente scarpe ne abbiamo un'infinità, in base ovviamente all'ammortizzazione e alla distanza che ogni runner deve percorrere. Abbiamo delle scarpe più ammortizzanti e più leggere. Mi soffermo al centro per ora, nel senso che vi presento la nuova Captiva, nella colorazione nuova. La La Sportiva Captiva è una scarpa che si adatta a runner medio-veloci per le medio-brevi distanze, quindi è una scarpa che si adatta per fare 30-40 km a un buon ritmo. Sicuramente è una scarpa che possiamo consigliare a un runner che vuole la sensazione col terreno e che va a correre anche sul sasso o su terreni medio-impegnativi. La cosa interessante di Captiva, a mio avviso, è proprio il tassello e la mescola della gomma, quindi grande grip grazie al friction bianco. Il tassello di altezza intermedia che ti consente di correre molto bene sia sul frango ma anche quando il terreno è un po' più duro. Tengo la parola e visto che passiamo da una scarpa veloce, passiamo ad un'altra scarpa abbastanza veloce. In questo caso abbiamo Bushido, Bushido 2, versione femminile e nuovo colore maschile. Una calzatura storica della Sportiva. Il grande cambiamento è stato fatto la stagione scorsa con la versione 2, appunto, dove è stata cambiata l'intersuola per rendere la scarpa un po' più ammortizzata. Come diceva giustamente Nicola, questa è una scarpa come Captiva destinata alle medie distanze, non lunghissime. Qualche atleta più performante la utilizza anche per più chilometri, però noi ci sentiamo di consigliarla per le medie distanze. Non disprezza assolutamente anche il sasso, quindi una scarpa che tiene molto bene. Certo, questa è la classica scarpa che consigliamo, ad esempio, per le gare di skyrunning nelle nostre zone dolomitiche, perché ovviamente con un buon grip, anche nel sasso, un po' più scivoloso, abbiamo avuto dei feedback ottimi proprio per un discorso di tenuta. Certo. Parlando ovviamente di terreni impegnativi, non possiamo non citare ovviamente il cavallo di battaglia, che è Mutant. Una scarpa che ai nostri clienti piace sempre veramente tanto. Mi piacerebbe dire un nome, una garanzia. Assolutamente, una scarpa che ha un ottimo tassello per i terreni anche più fangosi, più impegnativi. Non disprezza i terreni un po' più lisci, quindi anche se si va a correre su un tratto di asfalto, su un tratto di terreno battuto, non lo disprezza. Sicuramente si adatta per esigenze dove abbiamo un terreno impegnativo e molto tecnico. Certo, sai Nicola, quello che piace a me personalmente, ma visti gli anni che c'è sul mercato questa scarpa, i feedback sono stati e sono veramente tanti, la cosa che piace molto è anche il tipo di allacciatura, di chiusura della linguetta, che va ad incrociarsi all'interno, ti copre perfettamente il piede, ti lascia il giusto spazio sulle dita, sull'avampiede e qui davanti c'è questa piccola gomma che sembra di no, ma in certi casi serve. Protegge, assolutamente. Abbiamo anche ovviamente, la caratteristica della Mutant è avere il collarino leggermente rialzato per un'ottima protezione della caviglia anche sui terreni più impegnativi. Una novità, ovviamente anche nelle colorazioni, ce l'abbiamo nel cavallo di battaglia per le lunghe distanze. Assolutamente, certo. Abbiamo la nuova cascia, ovviamente i colori rinnovati, più freschi anche per l'estate, questa è la classica scarpa con caratteristiche da ultra trail, una scarpa molto ammortizzante e molto morbida. Un tassello ovviamente che si adatta a più tipi di terreno, quindi anche ovviamente puoi trovare il terreno fangoso, il terreno roccioso, perché in un ultra trail puoi avere molto caratteristiche. Che è sempre piaciuto e che piace, visto che in mano la versione è femminile, quello che piace di questa scarpa tendenzialmente è la calzata. Certo. Molto confortevole, ha un senso che sia confortevole Nicola perché è studiata per lunghe distanze. È una scarpa che nasce per i trail running e il nostro parco clienti la utilizza proprio per questo tipo di utilizzo, quindi le famose gare sugli 80, 100 e anche più chilometri. Quindi tuttavia è una calzatura che è molto molto apprezzata anche dai camminatori perché è molto comoda e ci ha dato veramente degli ottimi risultati. Aggiungo anche che è una scarpa che a livello di stabilità, proprio per chi va a camminare anche nei terreni un po' più impegnativi, ti tende a dare quella fascatura e quella resistenza che come Mutant ovviamente hai un ottimo feeling col terreno. Parlando sempre di Ultra Trail, non possiamo non parlare di una novità che avremo una chicca breve per voi. No, non devi dirlo! Eh ma so che i clienti la stanno aspettando, la nuova giacal sarà presto disponibile nei nostri negozi, la stiamo anche noi attendendo, quindi sempre una calzatura da Ultra Trail. Vi aspettiamo ovviamente prossimamente in negozio sia per provare la nuova collezione della sportiva che la novità giacal. Oppure ragazzi, se abitate online, dicevo, se abitate lontano potete acquistarla anche online su www.passport.it Ciao! E scusate la gaffa. Lo lasciamo così questa. Sì, sì, sì.